26 agosto 1978. Nel secondo giorno di conclave, dopo la morte di Papa Paolo VI, il patriarca di Venezia, Albino Luciani, viene eletto al soglio di Pietro. In omaggio ai suoi predecessori, assume il nome di Giovanni Paolo I. Il suo pontificato dura appena 33 giorni. Papa Luciani muore durante la notte del 28 settembre. Pochi mesi dopo cominciano a circolare sulla causa del decesso ipotesi molto diverse da quella ufficiale, riassunte dall'inglese David Yalop, che ipotizza un omicidio a sfondo politico ad opera di alcuni cardinali che si opponevano alle riforme annunciate dal pontefice, in particolare a quella dello IOR, l'istituto per le opere religiose, diretto da Paul Marcinkus.